Buongiorno, oggi parliamo con Giulio Morandini, direttore della sezione edilizia di MAPEI, di MAPEI Pro, analisi, prezzi e voci di capitolato. Un nuovo tool che è stato recentemente lanciato dall'azienda, uno strumento facile e intuitivo per cercare e scaricare un'analisi prezzi e voci di capitolato per tutte le lavorazioni dell'edilizia. In che modo la facilità di uso di questo software influisce, aiuta la produttività dei professionisti dell'edilizia? Il software MAPEI Pro, analisi, prezzi e voci di capitolato è sicuramente un tool, come ha detto lei, molto utile, molto veloce, di facile utilizzo e sicuramente velocizza il lavoro quotidiano dei progettisti, che sono i nostri partner principali, e proprio perché consente loro di scaricare questa documentazione semplicemente scegliendo con un percorso guidato facilitato da diminuotendina e consente loro soprattutto di scaricarlo in qualsiasi formato editabile che loro ritengono prioritario per la loro attività quotidiana. Quali sono i vantaggi di questo strumento MAPEI Pro, analisi, prezzi e voci di capitolato, rispetto ad altri strumenti che sono naturalmente in commercio, considerando per esempio la collaborazione che c'è tra MAPEI e H-Software per lo sviluppo di questo software? Direi che la collaborazione con H-Software è strategica perché ci ha consentito di sviluppare un tool che è in grado appunto di offrire ai nostri progettisti per ogni lavorazione che loro intendono ovviamente utilizzare, è una serie di informazioni editabili, come ho detto in precedenza, ma soprattutto aggiornabili in costante aggiornamento attraverso appunto la partnership con H. Questo significa che qualora ci sia la necessità di aggiornare ad esempio un'incidenza, un prezzo di una mano d'opera, piuttosto che di un prezzo di listino di un prodotto, il tutto avrà automaticamente grazie appunto all'accordo con H. Ok, quindi semplicissimo insomma una continuità di lavoro. Una continuità di lavoro, quindi diciamo con una velocità come dire in real time, ogni aggiornamento che noi faremo verrà automaticamente diciamo riversato sull'utente che utilizzerà questo strumento. Perfetto. Quali software di lavoro utili per i progettisti sono presenti sulla piattaforma MAPEI Pro? Beh, la MAPEI Pro infatti è un grande contenitore, un grande contenitore che contiene appunto una serie di strumenti digitali che ovviamente aiutano il progettista non solo nella computazione dei loro progetti, ma anche diciamo nella progettazione di questi progetti. Proprio per questo all'interno di MAPEI Pro troviamo una serie di software, ne cito alcuni, il software che ci consente di valutare la coibentazione dei nostri edifici con ovviamente i sistemi a cappotto, il software che ci consente di valutare, di rinforzare le strutture esistenti con i materiali compositi, ci sono dei software per il calcolo degli ancoraggi chimici, quindi ci sono una serie di altri strumenti che consentono ai progettisti veramente di fornire un supporto a 360 gradi. Agevolando il loro lavoro mi sembra. Esattamente. Mi interessava sapere, andando avanti proprio con questa riflessione, qual è il valore aggiunto che può dare questo strumento anche e soprattutto attraverso il vostro portale, l'aiuto che può essere e può rappresentare per i professionisti. Sicuramente il portale, inteso come il contenitore, come io chiamo il MAPEI Pro, è sicuramente, come abbiamo detto in precedenza, uno strumento utile, fondamentale e direi unico sul mercato, per tanti motivi, l'abbiamo detto prima, un grande contenitore che è all'interno dei tool di progettazione. Il MAPEI Pro, analisi prese e voci capitolato, è sicuramente ancora di più uno strumento unico, non solo per quello che abbiamo detto prima, cioè il fatto che in automatico il progettista si trova a poter scaricare in formato editabile, con tanti differenti formati, tutti editabili, le informazioni che richiede per la computazione, ma anche un riferimento ai principali preziari regionali e delle voci specifiche che sono contenute all'interno dello strumento. Quindi in qualche modo ha una doppia opzione, può scegliere se utilizzare la voce e l'analisi prezzo di MAPEI piuttosto che la voce e l'analisi prezzo equivalente che troverà nei maggiori preziari regionali italiani. Quindi questo è un grande vantaggio perché evidentemente non esiste nessuno strumento oggi sul mercato che consente questa doppia opzione. Tutti questi vantaggi e queste caratteristiche di MAPEI Pro lo rendono adatto anche o velocizzano la partecipazione a gare d'appalto? Sicuramente velocizzano perché soprattutto in quest'epoca nella quale soprattutto con i fondi del PNRR i progettisti sono obbligati a redigere capitolati i progetti con una certa velocità, sicuramente questo è uno strumento che li agevolerà molto. È stato lanciato ormai da qualche settimana, quindi volevo sapere dopo qualche settimana come sta andando, qual è la risposta dei professionisti? Devo dire che la risposta con mia grande soddisfazione è al di sopra di ogni più rosa aspettativa, come si usa a dire, perché abbiamo notato veramente una grandissima affluenza, tantissimi progettisti e clienti si sono registrati e soprattutto notiamo un grande utilizzo di questi utenti che sono registrati, quindi significa che evidentemente il software, il tool è sicuramente utile e sta rappresentando un valido aiuto per tutti gli operatori delle edilizie. Conoscendo MAPEI immagino, ma anche me lo ha già detto prima, che ci saranno nuovi rilasci, ci saranno aggiornamenti. State lavorando a qualcosa in particolare? I professionisti mi hanno già dato qualche consiglio in questo senso? I progettisti ci hanno ovviamente fornito qualche dettaglio che è da migliorare, come sempre, lo stiamo già facendo, abbiamo lanciato già la seconda release, il secondo pacchetto che include altre linee di prodotto, quindi questo grande contenitore continua ad ampliarsi e a breve conterrà tutte le linee di prodotto che MAPEI ha all'interno della propria gamma. Che sono? Che sono più di 20, quindi sono tantissime. Quindi un grande lavoro. Un grande lavoro. Mi piace concludere guardando questo pannello dietro di noi con una serie di lavori che avete fatto, MAPEI rientra nei progetti più importanti al mondo. Abbiamo qui dietro una delle torri di City Life di Milano. Ci vuole raccontare per la Isozaki Tower che cosa avete fatto? Beh, questo è stato un lavoro veramente iconico, come si suol dire, e qui devo dire che il gruppo soprattutto degli additivi ha fatto un lavoro fantastico perché con il progettista abbiamo chiaramente aiutato a sviluppare tutti i mix design per ottenere i calcestruzzi di elevate prestazioni, sostenibili e non solo perché abbiamo anche contribuito poi a realizzare tutta la parte dei parcheggi di questo edificio con i nostri sistemi a base di resine possidiche. quindi MAPEI è stata interpellata nei punti chiave, se vogliamo dire, di questa grande opera infrastrutturale quindi chiaramente questo è stato un motivo di grande soddisfazione per noi. Immagino, grazie mille. Grazie a voi.